eccoci benvenuti che sono rando 1987 motori e c'è mia ragazza vedete vai di ciao ciao siamo dove dire esattamente dove siamo cazzaniga siamo al magnifico lago faccio vedere al fiume mamma mia siamo ritornati dove siamo partiti siamo verso il fiume del fiume dove eravamo prima andate la sempre con il fiume di gazzaniga è un bel posto ma è come bello bellissimo non c'è nessuna anima stiamo vederlo camminando verso l'uscita e ci diamo alla chiusura del video oltre di là ciao eccoci alla chiusura del video ci vediamo al prossimo video non so quando ci sarà la prossima uscita del video dillo quando potrebbe uscire quando potrà uscire per una settimana in in città alta di sicuro perché è un luogo dove mi conoscono di più gente c'è più persone diciamo ecco e le persone conoscono molto di più e spero che vi sia piaciuto questo video questo mini vlog che io sono rando 1987 motori iscrivetevi al canale attivate la campanellina così non vi perdete le mie live su streaming yard e su twitch e neanche su youtube dai salutiamo a Grazie a tutti.